Lo sfondo delle saline di Prioro, scrigno di bellezza naturale e significati arcani, che rimandano a sensibilità e invenzioni fantastiche che sono parte della nostra natura. In primo piano ci sono le personificazioni immortali di quella sensibilità, l'angoscia di Demetra Cerele per il rapimento di Persephone, Proserpina, sua figlia. Al passo coi templi, il risveglio degli dèi, regia di Marco Savatteri, direzione artistica dell'evento di Prioro, dottor Domenico Mercurio, Priolo Gargallo, riserva naturale, saline di Prioro, 18 luglio 2021, spettacolo all'alba, ore 5.30, un'alba che non dimenticherai. L'evento si svolgerà secondo le disposizioni delle autorità e delle normative in vigore in materia di prevenzione pandemia Covid-19. E' obbligatoria la prenotazione del posto a sedere, telefonando al numero 0931 77 93 36 in ore d'ufficio.